Sì, buongiorno a tutti, salve ragazzi, ricominciamo con questo piccolo programma sul meteo. Dunque, che vi posso dire? Vi posso dire che entro la serata, dopo una giornata sostanzialmente positiva, con temperature ancora miti, avremo l'ingresso di correnti più fredde e naturalmente instabili, che probabilmente comprometteranno il tempo della giornata di domani. Dalla serata, dalla nottata specialmente, avremo delle precipitazioni, quindi, seppur di deboli intensità, ti accompagneranno, diciamo, la nottata. Per la mattinata di domani prevediamo sicuramente un brusco caldo della temperatura, con un ingresso di venti un pochino più freddi da est, visto il vortice freddo a nord delle Alti. Questo, come ho detto prima, comprometterà la giornata di giovedì e quindi probabilmente il mercato avrà qualche problema nel suo esercizio. Comunque si tratta di un peggioramento piuttosto veloce, e già dal pomeriggio di domani le precipitazioni cesseranno, però sostanzialmente rimarrà il vento. Vento che causerà naturalmente un progressivo abbassamento della temperatura nella prossima notte, su venerdì e su sabato, che però garantirà naturalmente anche un buon sabato piuttosto asciutto. Da domenica a pomeriggio sera probabilmente un ulteriore peggioramento. Le temperature, come ho detto prima, rimarranno più fresche da venerdì e di notte e sempre i miti durante la giornata. Con questo chiudo, vi saluto e ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!